Prosegue a grandi passi l'iter del serbatoio del Vanoi, portato avanti dal Consorzio di Bonifica Brenta per creare un invaso da utilizzare come banca dell'acqua nei periodi di siccità per mantenere costante l'irrigazione di un vasto territorio nella Pedemontana. Il Consorzio ha infatti avviato la procedura del dibattito pubblico, un atto necessario e indispensabile per aprire alla partecipazione della cittadinanza in un tema così dibattuto. L'ente infatti condividerà con la popolazione i portatori di interesse locali le informazioni a propria disposizione sul progetto e sulle ricadute del serbatoio sui vari territori interessati, dando voce a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel progetto. La fase di consultazione preliminare è iniziata tre settimane fa con la condivisione del documento di fattibilità con 143 enti e soggetti vari e il Consorzio Brenta ha raccolto le prime osservazioni preliminari. Una fase preliminare necessaria fanno sapere dal Consorzio che superata la pausa di agosto conduce all'avvio dell'azione di dibattito vero e proprio. Per due mesi saranno aperti i dibattiti e incontri in presenza e online. Poi l'ente raccoglierà le osservazioni che assieme alle controdeduzioni saranno inserite in un dossier conclusivo.